Per la categoria esordienti A, Giulia Bottigelli! Medaglia d'argento ai campionati provinciali UISP e quarta ai campionati provinciali FIP. Quinta ai campionati regionali UISP e decima ai regionali FIP. Svolgerà i campionati italiani UISP a Bologna! Ed ecco, per la categoria esordienti B, Mirko Truglio! Medaglia d'oro ai campionati provinciali UISP e FIP. Medaglia d'oro ai campionati regionali UISP e medaglia d'argento ai regionali FIP. Medaglia d'oro al trofeo nazionale di Tivoli e, come sapete, il campione italiano UISP 2006 e 2007 vincitore del trofeo delle regioni. Valevole come campionato italiano FIP 2006 e medaglia bronzo 2007. Un augurio per Mirko che nel 2008 apporti ancora il tricolore a Buster Sizio! Ed ecco Davide Menini! Medaglia d'argento ai campionati provinciali FIP e UISP. Medaglia di bronzo ai campionati regionali UISP e quarto ai campionati regionali FIP. Svolgerà anche Davide i campionati italiani UISP a Bologna! Giulia Menini! Medaglia d'oro ai campionati provinciali FIP e UISP. Medaglia d'oro ai campionati regionali UISP e quarta ai campionati regionali FIP. Svolgerà anche Giulia i campionati italiani UISP a Bologna! E il trofeo delle regioni valevole come campionato italiano! Sara Busti! Svolgerà anche Giulia i campionati regionali UISP e quarta ai campionati provinciali FIP. Quinta ai campionati regionali UISP e svolgerà anche lei i campionati italiani UISP a Bologna! E la campionati regionali UISP. L'anno scorso e svolgerà anche i campionati regionali UISP! Emily Truglio! medaglia di bronzo ai campionati provinciali FIP e quarta ai campionati provinciali WISP decima ai campionati regionali WISP e decima ai campionati regionali FIP Emily Truglio Emily fa parte della categoria allievi A e adesso per la categoria allievi B Chiara Monoli Chiara è medaglia di bronzo ai campionati provinciali FIP e quarta ai campionati provinciali WISP settima ai campionati regionali WISP medaglia d'argento al trofeo nazionale di Rivoli Categoria promozionale A Giulia Gatto Quinta ai campionati provinciali FIP sesta ai campionati regionali WISP quinta ai campionati regionali FIP svolgerà anche Giulia i campionati italiani WISP a Bologna ecco per la categoria promozionale C Miguel Colangelo Miguel è medaglia d'oro ai campionati provinciali FIP e WISP medaglia d'oro ai campionati regionali sempre FIP e WISP medaglia d'oro al trofeo nazionale di Rivoli come sapete ha vinto nel 2007 la medaglia d'argento ai campionati italiani WISP medaglia di bronzo ai campionati italiani WISP e medaglia di bronzo al trofeo delle regioni Miguel svolgerà i campionati italiani WISP a Bologna e il campionato italiano FIP a salso maggiore Miguel Colangelo categoria promozionali di Laura Mazza anche Laura è medaglia d'oro ai campionati provinciali FIP e WISP medaglia d'argento esercizi obbligatori e medaglia di bronzo di combinata ai campionati regionali FIP medaglia d'oro al trofeo nazionale di Rivoli e svolgerà i campionati italiani WISP a Bologna e il campionato italiano a salso maggiore Laura Mazza applauso ai Palmares 2008 International Skating Belanda Bologna Im thumbnail Imppert Hil Finland Grazie a tutti.